buongiorno buongiorno ascoltatori di youtube oggi sono a peschiera del garda fa caldo va molto caldo c'è una temperatura di 20 gradi guardate il luccichio del sole nell'acqua del lago di garda provincia di verona ho superato la provincia di brescia per entrare nel veneto si oggi mi trovo il lago di garda peschiera denominato come tempo fu che allora ero stato 15 anni fa a portare un quadro ebbene anche oggi devo consegnare alla mostra di pittura due quadri poi ma sapete cosa ho fatto sapete cosa ho fatto portato un pesciolino rosso sia un pesciolino rosso l'ho portato da milano l'ho comperato in un veterinario e l'ho buttato nel lago di garda ma io penso che questo pesciolino rosso venga mangiato da un pesce grande lo vedete lo vedete eccolo la 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 si vede il pesciolino rosso verrà poi inghiottito da un pesce grande così pure è l'essere umano chi più ha più pretende di avere e inghiottisce il pesce piccolo quello che non sa fare qualcosa viene comandato da un'altra persona ma lasciamo perdere questi discorsi nella giornata così calma placida come mi trovo tutto eccolo l'ha ancora il pesciolino rosso lo vedi mamma c'ha due code a due code perché a me piacciono anche le lucertole con due code ma devo dire che oggi sono lieto di aver fatto questo lungo lago del lago di garda e provincia di verona fa caldo sono in tema primaverile estiva aspetta simona aspetta dopo ti riprendiamo aspetta dopo ti riprendiamo da sola guarda riprendi gli animali che sono bellissimi guarda che bello che bello che bello che bello lago di garda è più grande dei tre laghi lombardi lo sto visitando tutto nei singoli borghi poi la prossima volta andiamo tremosine a garniano ok ciao